Come sapete io ho portato un po' gli ospiti per tutti i gusti, per grandi e per piccini e ora per l'appunto ho una ospite per i bambini, o almeno per i bambini di un tempo Allora vi ricordate chi è che circa una decina, forse 15 anni fa era sempre insieme a bambini cantava tutte le canzoni di cartone animati, e vi ricordate chi era? Chi è che ha detto Michael Jackson? Per favore, signore e signori, è qui con noi Cristina Davena! Eccola qui, ciao Cristina! Ciao bambini, ciao, ciao, ciao! Allora, innanzitutto mi devi dire cosa ci facevi a Stanio, perché non mi... Io? Cagnavo! Va bene, perché poi Cristina ha cantato tutte le sigle dei cartoni animati, i buffi, chismilicia, Mila e Sciro... Anche gli snorchi, sì sì sì! Anche gli snorchi, anche gli snorchi! Allora, stasera invece ci canterà Occhi di Gatto! Prego maestro! Gatto! 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 Il radice è bellissima, il sole è forbissima, sempre il ladro è bellissima, il tuo svegli è bellissima, è una spazia e per la zia, e il tuo svegli è sempre un pacco di malzia, riesco sempre a robar e me non las parir. Ou, 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 au kidigarto, ou, ou, au kidigarto, che questo nuore di un tuo comparto, sono le florelle che ha fatto un passo. Ou, ou, au kidigarto, ou, ou, au kidigarto, sei che in la cura dov'è riscatto, Scatto Occhi di gatto Un altro polpo è stato fatto Ciao bambini